Migliora la situazione sul fronte dell'abbandono dei rifiuti a Montevarchi. A dirlo sono i dati presentati dalla Comune e commentati dall'assessore all'ambiente Angelo Salvi. Calano i costi sostenuti dalla Comune per rimuovere i rifiuti anche ingombranti, lasciati fuori dai cassonetti e nel frattempo sale il numero di persone multate, arrivato a 50 dallo scorso mese di agosto. Il Comune ha adottato diverse misure di contrasto che confermano di aver imboccato la giusta direzione, spiega l'assessore Salvi dalla campagna di comunicazione Io sono Montevarchi, con il coinvolgimento dei cittadini e il sistema di smaltimento porta a porta nell'area artigianale e commerciale di Montevarchi Nord. E poi ancora la riorganizzazione complessiva del servizio sul territorio, in collaborazione con il gestore Sei Toscana fino all'inasprimento delle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti anche tramite l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. I dati, sottolinea l'assessore Salvi, mostrano un miglioramento. Mi preme principalmente segnalare il buon funzionamento del nuovo sistema di conferimento dei rifiuti entrato a pieno regime nell'area artigianale e commerciale di Montevarchi Nord. In quella zona, infatti, dice l'assessore, abbiamo introdotto questa novità nel mese di dicembre con una sorta di porta a porta aziendale che ha eliminato i cassonetti esterni, dando la possibilità alle attività di conferire rifiuti all'interno della loro resede. In questo modo il servizio è diventato più specifico ed attento alle esigenze degli utenti. Visti i buoni risultati conseguiti a Montevarchi Nord, il Comune pensa adesso di estendere questo tipo di servizio, ma allo stesso tempo punta ancora ai cassonetti cosiddetti intelligenti.